Grazie. Grazie. Diamo il benvenuto al governatore del Veneto, Luca Zaia. Buongiorno a tutti e bentrovati e grazie per essere intervenuti così numerosi a questo evento perché la visita del governatore del Veneto, Luca Zaia, è un evento per il VIM, per i suoi ricercatori e per l'attività che quotidianamente viene svolta all'interno dei suoi laboratori. Il VIM, come sapete, è l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, braccio operativo della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata. Riuscire ad addomesticare la malattia è sempre una cosa meravigliosa e ben lo sanno i 20 gruppi di ricerca che qui ogni giorno sono impegnati su vari filoni, dalla ricerca sulle malattie oncologiche, alla ricerca sulle patologie neurodegenerative, cardiache, neuromuscolari, alla ricerca sul diabete, fino anche al covid negli ultimi mesi. Il VIM lo scorso anno ha festeggiato i suoi 25 anni di attività, 5 lustri che sono stati festeggiati con la comunità in scientifica internazionale e anche con la città qui al Palazzo della Ragione e sono anni densi di impegno, di costanza, anche di fatica. Ogni giorno qui lavorano 180 ricercatori che guardano al futuro attraverso il loro microscopio, cercano nuove strade, nuovi approcci, nuovi percorsi e sono pensate in media hanno meno di 40 anni e per il 30% provengono dall'estero. Quindi questo è proprio un luogo internazionale dove si fa cultura scientifica, dove si fa sapere scientifico. Fare ricerca significa remare sulla stessa barca e tutte le grandi barche hanno un grande capitano e il capitano di questa barca è il professor Francesco Pagano, presidente della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata. Grazie. Parlo seduto? Presidente, nel dare il benvenuto voglio ringraziarla per il fatto che lei oggi con la sua presenza qui suggella un rapporto di continuità e di fiducia che è stato continuativo da quando siamo nati come fondazione con la Regione Veneto. Per darle un'idea, le ricordo alcuni passaggi, quando è nata la fondazione la Regione Veneto ha contribuito con il supporto finanziario all'avvio della fondazione. Ma quello che è stato determinante è che pochi anni dopo eravamo sotto il gioco dello zopro filattico che ci ossessionava con esose richieste. La Regione Veneto ci ha affrancato da questo rilevando tutto lo stabile e passandolo all'azienda. È stato per noi un passaggio fondamentale e senza il supporto della Regione per noi sarebbe stato difficile andare avanti. Ma quello che è stata poi la conclusione dal punto di vista proprio della cooperazione è stato il rapporto scientifico che abbiamo avuto, Presidente. Quando è arrivato il Covid noi avevamo studiato la possibilità che questa proteina di membrana che noi conoscevamo bene e curavamo con il cancro della prostata potesse proteggere gli ambrani di Covid e abbiamo chiesto il supporto per cercare di quantificare il numero di pazienti che erano in terapia antiandrogena. L'azienda Zero che è stata attivata dal Presidente Zaia ci ha fornito dei dati fantastici che sono stati in grado di documentare come i pazienti che fossero in terapia antiandrogenica erano stati protetti dal Covid e ci ha dato la possibilità di fare una pubblicazione scientifica che ha avuto un riscontro mondiale, abbiamo avuto le referenze sulle più prestigiosi riviste mondiali e negli Stati Uniti ha avviato un trial clinico nei Veterans Hospital. Per cui oltre al supporto, oltre al rapporto di tipo economico e fiducia c'è stata anche questa grande collaborazione scientifica che fa onore all'azienda Zero, che fa onore alla nostra fondazione. Non voglio essere di lungare troppo Presidente ma mi consente di farle una piccola notazione su quella che è la realtà oggi di un centro di ricerca. Noi abbiamo un centro di ricerca in cui lavorano oltre 200 ricercatori. Siamo una piccola azienda e questa è una piccola azienda che produce e il prodotto lo dà alla comunità. Non è un'azienda che prende i profitti e si riporta a casa. Il prodotto di questa azienda va alla comunità. È possibile che l'amministrazione pubblica non pensi che un centro di ricerca possa essere considerato come un centro produttivo e come dare supportato anche dal punto di vista economico. Questa è la massima aspirazione nostra ma secondo me è un modo in cui l'amministrazione pubblica prende realmente in considerazione che ricerca vuol dire futuro e futuro può dire anche futuro economico, vantaggio economico. Per cui veramente noi speriamo, Presidente, così come lei è stato molto sensibile nei nostri confronti in questo periodo di tempo anche in prospettiva possa tenere conto di questa realtà, di queste esigenze. Grazie ancora Presidente. Devo parlare con la mascherina? Posso abbassare? Buongiorno a tutti. Sono Roberto Vapetti, sono il direttore del Gazzettino e come succede ormai da qualche tempo agli eventi, e anche questo è un evento, del VIM sono chiamato a intervistare i protagonisti di questa straordinaria azienda, di questo straordinario centro di ricerca. Questa volta sono stato esonerato dal compito di intervistare il professor Pagano anche perché non sapevamo più cosa chiederci, e invece rivolgerò alcune domande al direttore scientifico Gian Pietro Semenzato a cui chiederei molto semplicemente, Federico Cappellato ha già dato alcuni ceni su che cos'è il VIM, qual è la sua attività, però a lei chiederei di sottolineare in particolare le specificità e la missione del VIM e poi passeremo anche alla presentazione di alcuni dei protagonisti della vostra attività. Bene, buongiorno a tutti, intanto grazie. L'avete sentito già dalla giornalista un po' cosa si fa in questo istituto. Questo istituto è essenzialmente un posto dove la ricerca di base si coniuga con la ricerca clinica e in tale situazione abbiamo una grossissima collaborazione ovviamente con l'Università di Padova, con l'azienda ospedaliera di Padova e non solo ma anche con altri enti come il CNR, altre università in Italia e anche all'estero. Avete sentito parlare anche di quelli che possono essere gli argomenti che si studiano qui, le patologie. Sono patologie abbastanza varie, si va dall'oncologia alle malattie del metabolismo, alle malattie neuroendocrine, endocrino-degenerative, neurodegenerative, cardiovascolari e così via. E a primo acchito io penso che uno gli viene in mente ma è una ricerca eterogenea. In realtà non è così, c'è un filo conduttore alla base di tutte queste ricerche che è la comprensione dei meccanismi molecolari e non per niente si chiama Istituto Veneto di Medicina Molecolare che stanno alla base di queste patologie. Cercare cioè un marcatore, un qualcosa che può affinare una diagnosi oppure che può offrire un razionale per una terapia innovativa. Un'altra cosa che mi piace sottolineare come particolarità di questa istituzione è che c'è una multidisciplinarietà. Cioè quando uno pensa alla ricerca medica diciamo che pensa subito a un medico, a un biologo. In realtà qui dentro non lavorano solo medici e biologi. Lavorano chimici, biofisici, farmacologi, biostatistici e quant'altro. E questo perché oggigiorno per affrontare un problema bisogna vederlo a 360 gradi. Abbiamo la convinzione che se vogliamo per esempio curare un paziente che alla fine è questo l'obiettivo finale di tutte le ricerche dobbiamo avere una visione integrata. Siamo convinti di questo nell'ottica poi di arrivare a quella medicina personalizzata ogni terapia deve essere diversa per ogni paziente perché ogni paziente è diverso l'uno dall'altro. Avete sentito qui lavorano molti giovani più di 200 persone e quelli che voi il signor governatore c'ha di fronte nelle prime file sono i meno giovani perché sono le persone diciamo così che coordinano questi 20 gruppi di ricerca e che in qualche modo reclutano investono su questi giovani e sono persone che ovviamente sono meno giovani perché sono ormai persone affermate sono dei opinion leaders riconosciuti nel loro campo e io qui ve li presenterei a uno a uno cominciando dal professor Fadini che è un clinico che si interessa di malattie del metabolismo del diabete in particolare accanto a lui c'è la professoressa Milena Bellin l'ultimo recente acquisto dall'estero dall'Olanda Leiden e lei si interessa di cellule staminali crea i mini cuori cosiddetti per studiare le patologie cardiache anche Alessandro Carrer è un parliamo di recenti acquisti ma siamo tutti in epoca di due anni fa prima della pandemia poi ovviamente si è bloccato tutto e gli spostamenti sono stati difficili e lui si interessa di cancro del pancreas la signora destro non è ancora un PI ma ci sta ci sta ci sta provando qui abbiamo il professor Corbetta che ormai da qualche anno è stato chiamato a dirigere la clinica universitaria di Padova il suo gruppo qui al VIM di ricerca si interessa di malattie neurologiche di network a livello cerebrale ovviamente nella fisiologia e nella patologia come l'Alzheimer per esempio vicino a lui abbiamo un ingegnere il professor Nicola Elvassore lui in sharing anche con Londra perché insegna anche lì e si interessa anche lui di cellule staminali di organoidi cioè piccoli stomaci piccoli intestini a livello di laboratorio accanto a lui Francesco Piazza lui è un oncologo un ematologo clinico si interessa di oncoematologia in particolare di linfomi mielomi dietro a lui il professor Santoro anche lui dopo i giri a Torino il Belgio l'Ovanio è approdato al VIM dove un gruppo di ricerca che si interessa di angiogenesi un meccanismo fondamentale nella crescita tumorale Bert Blau è un fisico che studia la fisiologia del muscolo la cacchessia e quindi la perdita muscolare il professor Costas Lefimiatis sempre difficile pronunciare questo nome perché è greco e lui si interessa di segnali cellulari a livello cardiaco e accanto a lui il professor Andrea Limonti che è oncologo e farmacologo anche in sharing con la Svizzera italiana ma non solo italiana perché Zurigo è il professor tedesco si interessa di cancro della prostata e anche diciamo così in termini ha fatto delle ricerche sul covid di cui parlava il professor Pagano poi sempre nella seconda fila lì abbiamo i due rappresentanti dei ricercatori i rappresentanti nel consiglio di istituto cui ovviamente noi teniamo molto perché ci portano le istanze dei giovani Caterina e Leonardo poi Claudia Lodovichi che si interessa di lei fa parte anche del CNR ed è una nell'ambito neurologico si interessa di sistemi sensoriali e infine Mario Bortolozzi che è un altro fisico che studia diciamo così i segnali a livello cerebrale loro hanno il compito di reclutare questi giovani di appassionarli alla ricerca anche perché poi molti di questi giovani alcuni restano qui altri vanno fuori all'estero magari poi ritornano e tutti quelli che se ne sono andati hanno avuto posizioni importanti sono sempre stati apprezzati io credo che noi finisco dando un po' un'importanza al ruolo dei giovani e al fatto che noi dobbiamo non solo stimolarli selezionare i migliori ma dobbiamo dargli anche delle certezze a questi giovani e io credo signor governatore che la sua presenza oggi qui sia importante in questo senso perché al di là di dare un indubbio riconoscimento all'eccellenza dell'istituto per i giovani vedere che i nostri chi ci governa i nostri politici danno importanza alla ricerca e vogliono investire sulla ricerca su nuove generazioni di ricercatori io credo che questo sia fondamentale e alla fine non solo diciamo così per i ricercatori che lavorano qui ma io credo anche per i pazienti perché i pazienti ripongono nei risultati delle nostre ricerche le loro speranze per delle terapie migliori quindi grazie ancora grazie bene presidente un po' di cose sul Vim le sono state raccontate poi si avrà delle altre curiosità nel corso della visita che ci sarà a modo di soddisfarle io profiterò di questa conversazione anche per affrontare una serie di temi il professor Semenzato ha finito ricordando parlando dei giovani della della ricerca in questi mesi in queste settimane si parla molto delle PNR dei fondi che dovrebbero arrivare al nostro paese anche alla nostra anche la nostra regione ecco dal punto di vista della ricerca PNR ricerca Veneto cosa possiamo e cosa dobbiamo attenderci innanzitutto grazie grazie professore per l'invito ringrazio il professore e ringrazio anche ovviamente il direttore scientifico e Giustina Destro quindi grazie veramente di cuore per per avere pensato ad invitarmi quindi al presidente in particolare il mondo professor pagano per anche per tutta l'attività perché Wim fa 25 anni anzi 26 ormai siamo nel 1996 e se voi guardate spesso in tv quando fanno i film i telefilm la figura del politico come viene descritta del ladro del poco di buono dell'azzarone dell'incapace è questo è questo mood io guardando la tv non guardo la tv ma facevo notare anche mia moglie ho detto guarda non c'è una una volta che ci sia una proiezione di persone per bene e quindi io mi metto anche nei panni di un ricercatore o di chi fa ricerca come qui a Vimo in altra realtà e io ma la politica cosa farà però la politica siamo tutti noi qui abbiamo l'esempio di cittadini mi si perdoni di normali cittadini che sono degli scienziati come il professor Pagano ad esempio che comunque oppure Giustina Destro il professor Semenzato che ci credono quindi le idee camminano sulle gambe degli uomini e delle donne dobbiamo finirle di cercare sempre la scusa di dire ma è la politica che non funziona allora sul tavolo ci sono 20 miliardi di euro 20 miliardi e mezzo di euro per il Veneto noi abbiamo aperto un tavolo in Italia bisogna fare i tavoli non c'è ancora la dittatura e quindi in democrazia si fanno i tavoli altra cosa che si contesta sempre troppi tavoli se riuscite a mettere d'accordo gli italiani senza i tavoli vi spiegate come si fa e magari adottiamo subito quel protocollo c'è un tavolo diciamo di partenariato del PNRR che recepisce progetti di ricerca e innovativi con una visione che è quella di pensare che chi guarda il futuro deve avere una mentalità assolutamente aperta penso che Vim lo stia dimostrando ne parlava prima il professor Pagano quando mi chiese il materiale dell'azienda Zero che poi noi guardi non abbiamo fatto nulla abbiamo fatto semplicemente abbiamo messo a disposizione una banca dati potremmo dire che ce l'avevamo la banca dati perché c'è anche chi non c'è neanche le carte per parlare di banca dati e come dico sempre io alla fine si ringrazia chi ti porta il bicchier d'acqua ma c'è una condotta un acquedotto c'è chi l'ha anche pensato l'acquedotto quindi straordinaria questa ricerca guardo chi se ne ha occupato di questa ricerca rispetto al tumore della prostata ma straordinaria questa voglia sempre di fare di innovare non abbiamo ricordato ad esempio la ricerca che avete fatto una delle 124 pubblicazioni sul covid e donne sulle 52.000 donne ecco quella è un'altra ricerca importante che è stata pubblicata per chi non lo sapesse il VIM nel 2021 nonostante il covid ha pubblicato 124 ha avuto 124 pubblicazioni quindi noi ci siamo per questo però tutto si basa su progetti cioè noi non siamo coloro che debbano proporre i progetti ma li recepiamo non abbiamo assolutamente la presunzione di essere degli esperti però dobbiamo fare squadra io dico sempre i miei bisogna investire su chi ha voglia di fare perché di perdi tempo ce n'è tanti in giro anche nel mondo scientifico anche nel mondo scientifico senza fare nomi né cognomi no 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 guardate io sto parlando in generale cioè che non vengano fuori sempre polemiche ma io ho l'obbligo di dire una cosa che ci vengono proposte spesso ricerche ma noi chiediamo sempre al di là del pensare in grande poi la ricaduta clinica quale sarà non te la chiedono all'immediato perché chi fa staminali fa organoidi eccetera è ovvio che non ti può dire guarda domani mattina abbiamo il pezzo di ricambio ma comunque in prospettiva arriveremo a qualcosa di concreto perché il nostro obiettivo è far vivere non solo di più i cittadini ma farli vivere meglio questo è l'obiettivo in una regione nella quale l'età media si è alzata moltissimo questo è merito di una squadra di uomini e donne della sanità che comunque curano bene i veneti ricordo che noi abbiamo 12.000 medici 54.000 dipendenti a proposito ringrazio i guidatori delle ambulanze ieri non mi sono ricordato di ringraziare i guidatori delle ambulanze evidentemente quando ho detto ringrazio tutto il mondo della sanità dovevo dire e anche i guidatori delle ambulanze perché parlavo di covid ieri quindi ci siamo penso che di opportunità ce ne siano dopo di che i grandi progetti comunque troveranno sempre modo di decollare e Vim ne è una dimostrazione plastica palese cioè che se hai le idee poi comunque non voglio citare Walt Disney che diceva se è un sogno se lo pensi poi se lo sogni poi poi realizzarlo però è così voi rappresentate questo e penso che sia doveroso sottolineare la ricaduta clinica perché a noi interessa quello c'è la cura del paziente poi senta Presidente a proposito di ricaduti a proposito di futuro a proposito della capacità di guardare non solo avanti ma oltre che a un tratto distintivo di un centro d'eccellenza come il Vim ieri lei ha non celebrato perché non non si celebrano due anni di covid ma ha ricordato due anni di covid ecco sanità ricerca come sono destinate a cambiare dopo due anni di questa di questa esperienza non solo come sono come sono sono cambiate ma come cambieranno cioè qual è il futuro della sanità della sanità d'eccellenza come centri come questo ma anche della sanità che vive di quotidiano il rapporto tra il medico e il paziente ma intanto cominciamo col dire che la ricerca viene spesso recepita lo diceva anche il professor Semenzato in altri termini prima anzi lo diceva il professore Pagano prima diciamo ma noi siamo comunque un'industria cioè siamo comunque una produzione ecco la ricerca viene ancora recepita come un bene immateriale non una produzione immateriale poco quantificabile io penso che covid ci ha impresso una velocità che mai noi avremmo raggiunto se ci pensate pensate a un esempio banalissimo lo smart working se avessimo avuto in italia che so un parlamento che avesse pensato a una legge per imporre lo smart working ai cittadini ci sarebbe stata una rivoluzione sociale è arrivato un virus ce l'ha piazzato sul muso nel giro di qualche ora e lì tutti zitti magari a imprecare perché la banda larga non funziona o perché non c'è non c'è la fibra giusta ma comunque ci siamo adeguati a un modello di vita che è diverso tanto è vero lo dicevo ieri the new york times due giorni fa scriveva nell'edizione del mattino scriveva che oggi l'analisi che si fa rispetto allo smart working è quella di della difficoltà degli imprenditori dei grandi manager di riportare al lavoro fisico i loro lavoratori perché comunque è iniziato un nuovo corso e un nuovo modello di vita e un po' tutti noi l'abbiamo vissuta sta roba quindi penso che il covid ha impresso una velocità ci ha fatto capire che comunque di certezze non ce ne debbono essere mai nel mondo della sanità noi obiettivamente traccheggiavamo avevamo un po' la politica del sughero 9-10 mila ricoverati nelle punte massime 80 mila prestazioni sanitarie all'anno 2 milioni di accessi pronto soccorso 54 mila dipendenti alcuni se ne vanno altri vengono assunti il covid ci ha detto attenzione che modello cambia ad esempio cambia rispetto alla programmazione io penso che questo paese debba pensare a un nuovo piano di sanità pubblica che sia assolutamente radicalmente diverso da questo modello che è ormai analogico noi che abbiamo una sanità innovativa comunque siamo ancora con i piedi in un mondo analogico dal punto di vista sanitario allora l'intelligenza artificiale che fa sempre venire l'orticaria ai medici ma sti qua parlo di intelligenza ma io ci vuole c'è il medico ovvio che ci vuole il medico ma il livello di diagnosi di indagini che noi oggi riusciamo a fare con le macchine di ultima generazione parlo di TAC di risonanze pensate a Vicenza abbiamo lo Cyberknife vedo il professor Rizzutto qui arriverà quanti Tesla abbiamo preso? sette Tesla cioè uno gli guarda il cervello e vede anche cosa riesce sta pensando mentre gli fai la scansione tutto questo va nella direzione di capire che le tecnologie ci stiano aiutando e questo aiuto io penso che ci debba portare a pensare che l'integrazione sarà massima cioè noi tutti abbiamo in tasca un device che è lo smartphone quasi tutti ce l'hanno beh quello ci darà dei parametri biologici cioè ci parlerà sempre di più della nostra salute non si limiterà a dirci battiti cardiaci piuttosto che qualche altra diciamo stupidata rispetto ma ci parlerà in maniera più profonda quel device ci porterà ad interloquire in maniera diversa con il mondo della sanità già oggi se parlate con un medico ti dice va arriva il paziente si è fatto la diagnosi su internet c'è già la prescrizione pronta mi chiede la firma e poi va a casa se non firmo anche si arrabbia allora io penso che noi dobbiamo mutuare non c'è nulla da inventare dobbiamo mutuare il meglio da tutti i sistemi gli israeliani sull'intelligenza artificiale sono avanti anni luce e noi lì dobbiamo andare a pescare noi dobbiamo comprare le migliori macchine ed investire nella ricerca ma io lo dico concretamente perché quello che possiamo fare noi lo stiamo facendo io ad esempio tre o quattro mesi fa abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro in regione proprio per sondare scandagliare un tema che il titolo che gli ho dato è la sanità del futuro quella sanità del futuro se lo chiede un cittadino ti dice l'ospedale vicino a casa pieno di letti questa non è la sanità del futuro se dovessimo ragionare per assurdo l'ospedale del futuro è un ospedale che non ha più i letti sembra quasi assurdo no? non si arriverà mai a questi livelli ma più deospedalizziamo più bravi siamo a curare più sta il paziente in ospedale meno bravi siamo a curare ovviamente è un discorso depurato delle grandi patologie ma abbiamo regioni che ospedalizzano quattro volte tanto il Veneto sulla stessa patologia ci sono ragioni che l'ernia inguinale si fa ancora sei giorni di ospedale in alcune regioni italiane da noi si fanno sei ore è già grave perché sei ore sono già tante a stare in ospedale capite qual è la sfida? ovvio che se non ci sono uomini e donne di qualità e quindi voi avete avuto un merito quello dell'attrattività cioè dell'aver portato allora io dico una roba guardo i cervelli di ritorno io non sono uno di quelli che pensano che tutti i migliori se ne vadano e qui restano i pirla di questo poco ma sicuro ma è pur vero che Varen che è nato a Zenzalino in mezzo alle campagne ferraresi ce l'aveva un mio amico gli è nato in casa a Varen gli ha dato il nome di Rude Varen cos'è Varen? ho capito ma siccome tu sei un appassionato lo sai Varen ha vinto tutto quello che si poteva vincere al mondo il pelè della situazione il maradona della situazione gli nasce in casa a Zenzalino nella campagna ferrarese gli dà pensate si chiama Varen perché lui ha è Rude Varen dove c'è l'ambasciata italiana a Parigi e lui c'ha una casa anche lì ma non si accorge che Varen è Varen e lo vende allora dico che è vero che abbiamo fughe di cervelli e dobbiamo andare a recuperarci di quelli bravi quelli che non sono bravi glieli lasciamo all'estero che non ce ne facciamo nulla ma dobbiamo valorizzare anche quelli bravi che abbiamo qui perché se passa il concetto dell'esterofilia non ce l'ho con voi ma siccome finisce che i nostri ragazzi si fanno l'idea che qua non possono far nulla e questo è un grave guaio perché è vero che noi dobbiamo puntare all'immigrazione di ritorno ma è altrettanto vero che dobbiamo dire che uno su mille ce la fa all'estero e sono i più bravi infatti siamo venuti sono venuti a cercarvi vi ho parlato di Varen perché Varen è stato l'esempio classico cioè lui se l'ha fatto sfuggire e ogni tanto me ne parla dice se me l'avessi tenuto e io penso che quindi anche un grande lavoro sui giovani dobbiamo fare l'università lo stanno facendo penso che poi questa debba diventare un'azione strategica nazionale di solito si parla di piano Marshall per far bella figura ma qua veramente ci vorrebbe un piano Marshall in questa e saluto l'opodo destro che ho visto qui in questa regione molto spesso ricerca e innovazione si fa in azienda in questa regione la ricerca e innovazione si fa in azienda noi abbiamo la piccola media impresa l'80% di imprese e meno di 15 dipendenti e tutti si dicono ma perché siamo siamo così bravi perché siamo siamo creativi perché siamo riusciti a creare un substrato che se se il professor Pagano dice mi servirebbe questa attrezzatura ma non so dove trovarla nel mondo qua i nostri imprenditori riescono sicuramente a crearla cioè quindi è il substrato giusto per l'impresa ma anche per la ricerca senta abbiamo poco tempo questa conversazione sta no 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 non era ci mancherebbe ci mancherebbe altro basta ricordare che Varene è un cavallo perché non ma c'era qualcuno che non lo sapeva ma no ma figurati figurati tutti in questa regione sono marcato ma è ovvio va beh marcato marcato non fa mai testa esatto 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 come quello quando parlavo del memoria di Adriano mi ha detto ma gioca ancora senta a parte a parte queste queste divagazioni lei adesso ha tratteggiato un futuro anche affascinante stimolante che è già la realtà il professor Pagano a proposito di realtà le ricordava nel suo nel suo intervento che questa non è un'azienda che ha fini che ha fini di lucro è un'azienda che però produce produce per la comunità produce per la salute delle persone e toccava un tasto chiave e cioè l'aspetto delle risorse economiche e anche del rapporto tra pubblico e privato nella sanità ecco lei da questo punto di vista come la vede c'è un cambiamento anche in questo perché tutto quello che lei ha raccontato costa anche molto e oggi già la regione le risorse della regione per il 70% più o meno sono assorbite dalla e dalla sanità ecco sì partiamo da un pregiupposto che noi siamo l'unica regione in Italia prof e non applica tasse e quindi sostanzialmente non preleviamo dalle tasche dei venditi un miliardo 179 milioni di euro dopo quanti sono 12 anni mi sono reso conto che nessuno se ne è accorto ma non importa noi però sul fronte degli investimenti siamo sempre a disposizione anche di VIM questo è poco ma sicuro sempre sulla base dei progetti poi che abbiano ripeto delle ricadute rispetto a quello che è l'aspetto clinico e di cura ma del resto non può essere che così è un fatto di stabilire le priorità a livello regionale a livello nazionale il rapporto pubblico privato in questo caso definire privato VIM mi sembra un'esagerazione lo è dal punto di vista giuridico ma di fatto è una costola di quello che è la comunità veneta penso che sia assolutamente da privilegiare in generale questa peraltro è una regione che è la regione che ha minor incidenza di sanità privata nel territorio siamo al 12% io ho lasciato inalterato questo dato che ho trovato nel 2010 però devo anche dire che i privati stanno facendo un grande lavoro loro sono destinate diciamo delle attività di specializzazione e quindi si cresce assieme cioè il progetto è un progetto comune adesso non so se ho risposto alla domanda la mia visione non è quella di vedere la regione e il resto del mondo e non mi sento neanche mi sento anzi la responsabilità di rappresentare tutti i veneti a me interessa il prodotto finale avrò magari è stata formazione aziendale aziendalista però noi al fine dobbiamo chiedere il prodotto finale ci sono un sacco di belle sperimentazioni prima ho citato il professor Rizzuto e l'università di Padova l'RNA messaggero adesso abbiamo i Novax che non si vaccinano perché c'è l'RNA messaggero tutti sanno cos'è l'RNA messaggero e poi ti chiedi non nasce per fare il vaccino del covid nasce per il cancro ma guarda caso hanno già autorizzato la prima terapia per il melanoma e stanno autorizzando altri protocolli e quindi mi chiedo ma se poi tu non ti sei vaccinato se avrai la sfortuna di avere una di queste patologie ti rifiuterai anche di farti curare a sto punto capite che c'è un mondo che sta cambiando e noi dobbiamo decidere se vogliamo correre o fermarci e siccome i Veneti sono solo dei corridori perché qua non cammina nessuno si corre solo dobbiamo continuare a puntare all'innovazione guardate io ci credo a questa storia della sanità cioè noi investiamo 70 milioni di euro all'anno in attrezzature che non ci sia un medico in Veneto che dica che gli facciamo lavorare con attrezzature con diagnostica da anteguerra o frasi del genere perché non è vero i Veneti vengono diagnosticati con le migliori macchine che ci sono al mondo sfido chiunque di dirmi che non è vero perché vedo i conti pensate che a Vicenza otto anni fa abbiamo comprato la prima Cyberknife che opera una macchina straordinaria che ti apre la scatola crani che opera cervello eravamo i primi in Europa ad averla ce ne erano due al mondo solo con i DRG cioè i ticket dei fuori regione ci pagavamo 230 mila euro di rata di leasing mensili pensate anche cosa vuol dire quando investi no? perché alla fine i conti dobbiamo guardarli senza parlare della qualità delle cure siamo i numeri uno e sapete cosa hanno chiesto al proprietario no al proprietario al presidente della Coca Cola un giorno gli hanno chiesto come mai Coca Cola continua a fare tutta sta pubblicità se pensate arriva Natale Coca Cola tutte le stagioni l'estate Coca Cola e lui guarda l'interlocutore e gli dice perché altrimenti bevono la Pepsi quindi noi non dobbiamo vivere di rendita di posizione dobbiamo pensare che ci può essere sempre qualcuno che ci sorpassa quindi sempre a manetta e bisogna far così è giusto come fa il professor Pagano grazie grazie a voi grazie presidente io io sono come lei un ospite in questo in questo però credo di interpretare e adesso questa quello che sto dicendo avrà una sua concretizzazione il pensiero ringraziandola per essere qua anche per quello che ha detto per quello che farà soprattutto ma questo questo è un albero della vita che rappresenta la scienza e la ricerca questa è una foto senza mascherina ed è ha un significato particolare perché l'abbiamo fatto per i 25 anni ma è il risultato di tutti i giovani e i scienziati che hanno contribuito faremo in modo di finanziare una bella ricerca è un impegno un albero prezioso però abbiamo anche noi un omaggio grazie questo ci sta portando fortuna da 1100 anni grazie 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 da sempre ce l'abbiamo e anche sul balcone però questa la mettiamo questa è più preziosa ma questa è sventolata intanto su canale grande questa è più preziosa no però è seria anche quella vedo intanto non è cinese quella lì questa è la vera bandiera bellissima questa la mettiamo fuori la mettiamo fuori il mio ufficio perché lì all'ufficio con il poggiolino dove c'ha le bandiere pronto a fare i discorsi prof anche allora bene Luca ferma bene scusa adesso c'è la visita ma seguo tutti bene grazie adesso c'è una breve breve visita agli altri piani per far vedere al presidente concretamente cosa è grazie a tutti grazie grazie